... Qui ci sono le grandi scoperte, come tra l'altro gli ultimi, i recentissimi calchi realizzati proprio a novembre scorso, ma c'è anche tutta la storia di Pompei, quindi ci sono oggetti anche fra i più importanti scoperti qui a partire dall'Ottocento. Quindi veramente, percorrendo quest'antiquarium, si ripercorrono i secoli di vita di Pompei fino al giorno fatidico dell'eruzione, una sale proprio dedicata all'eruzione con i calchi, gli oggetti deformati dal calore dell'eruzione e tutto quello che ci racconta appunto quella tragedia. Grazie.